Lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce. Nel 250esimo giorno, dall'inizio dell'anno, ne mancano 108 al termine. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.23. La luna si leva alle 2.40 e tramonta alle 18.10. L'Endinara invia a Venezia un'ambasceria di otto cittadini per far atto di dedizione e giurare fedeltà alla Repubblica. Le previsioni per domani. Tempo ancora stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche tratto di nuvolosità in transito. Precipitazioni assenti, temperature senza sensibili variazioni o in lieve calo nelle minime.